E allora, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete visto, per il momento non ci sono tanti video, non c'è tanta carne sul fuoco, perché di Albafico ormai, tra anteprime, preview, guide, li abbiamo discusso, li abbiamo confrontati con Persephone, ormai è uscito da noi, lo stiamo provando, e di Persephone anche, ormai abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire, abbiamo analizzato il personaggio, le modifiche che sono state fatte, abbiamo visto qualche gameplay, qualche partita nel segreto, insomma, per il momento ormai si attende l'uscita di Persephone, c'è già un piccolo indizio sul prossimo personaggio, in caso andate a vedere la mia pagina Facebook per vedere l'immagine, quindi il personaggio già, se è vero dovrebbe essere chiaro quale sarà il prossimo personaggio, quindi apparirà da un giorno all'altro nel test server, questo è un periodo un po' morto, perché quando c'è il capo anno cinese si blocca da loro il mondo, quindi anche patch, aggiornamenti e cose varie sono un pochettino ridotte, e quindi in questo periodo un po' di mortorio stavo pensando una cosa, di fare una novità, diciamo un nuovo tipo di video, stavo pensando, cosa che già fanno molti da tanto tempo, perché non andiamo a vedere qualche partita nel PvP, nel server sempre cinese, perché da noi ci frega relativamente, ma nel server cinese già abbiamo una Persephone, già che hanno pullato, che hanno sistemato, e possiamo andare a vedere qualche team dove già l'hanno infilata, però parliamo di partite, non quelle del server in cui sono io, ma quelle globali, dove ci sono, come vedete qua, i top, quindi questo sarebbe il corrispettivo del nostro fakir, ora non ricordo quante stelline a fakir, ma parlo delle partite dei server generali, quindi dei top player, quindi già ha un senso un po' diverso, andrà a vedere le loro partite, anche per vedere se loro stanno usando Persephone, come la stanno usando, in che team la stanno usando, quindi comunque andrà a vedere le partite degli altri in questa situazione, potrebbe essere interessante, quindi perché no? Vedrà un'occhiata anche commentata, io non so, ho sempre questo piccolo dubbio se c'è qualcosa di male o no, andrà a vedere i gameplay degli altri, perché ero un po' indeciso, perché comunque si vede il nome, l'account, quindi ero sempre un po' indeciso, però visto che molti comunque lo fanno, e comunque le partite a quanto ho capito, siccome alcune non funzionano, ogni tanto mi dice che non funzionano, quindi mi viene il dubbio che qualcuno possa scegliere di bloccare. Ora andiamo a cercare qualche partita che però ci interessi, quindi ecco, già Persephone c'è, partite che ci possano interessare da vedere, che magari c'è qualche interazione che ci possa interessare. Allora, in questo caso noi abbiamo Persephone, quindi già possiamo vedere, già mi incuriosisce che da un lato c'è e dall'altro no, quindi non è onnipresente, stiamo parlando di gameplay leggendario, quindi partita a livello leggendario, quindi stiamo parlando degli account più grossi che ci sono, quindi qui io presumo che tutti abbiano pullato Persephone e che qua ci sia una Persephone schillata full 5, o comunque quasi, quindi stiamo navigando in questo territorio. Qua abbiamo un Alon dall'altra parte, quindi già comunque è interessante andare a vedere se Alon sarà efficace contro Persephone. Poi cosa vediamo? Questa nuova combo, questa nuova interazione di Persephone e Ade, finalmente è ritornato a essere utilizzato Ade, di questo sono contentissimo che era l'ultimo, l'unico SS praticamente non utilizzato mai, il più scarso, ingiustamente. E qua vediamo che già T1, Persephone è in rosso. Quindi subito se è la vela, T1, Atena fa sparire Persephone. Quindi... Tra l'altro Atena, ora che ci penso, è anche un buon counter perché Atena ha la linea rossa in base alla percentuale di vita del nemico. Quindi anche se Persephone comunque ha molta più vita rispetto agli altri, cambiano anche le percentuali relative alla sua barra. Quindi comunque ora non mi ricordo le percentuali, era il 30-35%, sarà il 30-35% delle IHP di Persephone. Quindi comunque è fattibile portarla in una zona rossa. Quindi comunque Atena può aiutare a togliere un sacco di vita. Quello che voglio dire è spiegato malissimo, che quel meno 30% che resta Persephone, per gli altri personaggi sono comunque un macello di HP da buttare, da buttare giù, però per Atena è sempre il meno 30% e quindi può toglierla con più facilità rispetto ad un'altra. Distrutto il team con Persephone, che sembrava un buon team, onestamente. Sembrava un ottimo team perché c'è Persephone, vediamo i danni un pochino. Persephone qua non ha fatto niente, è stata subito distrutta. Secondo me, come dicevo in altri video, Persephone sarà il target, deve essere il target principale subito, perché più tempo passa più distrugge i team nemici. Quindi qua, ottimo. Un ritorno di Hypnos con il suo RC, era usato un pochino meno. Ade e Ade Alone, sta avendo ultimamente una ribalta, di cui sono contento, un PG che ho recuperato successivamente. Allora, esempio, vedete, questa non me la fa vedere, io non capisco perché. Vediamo un po'. A me interesserebbe trovare una Persephone contro dei personaggi per quanto riguarda la purificazione del seme. Quindi contro Araia, contro Lune, contro questi personaggi per capire un po' le purificazioni. Allora, questo team non ci interessa perché Persephone non c'è in questa partita. Lasciamola. Quindi non in tutte le partite schierano Persephone. Magari se la bannano, certo, magari era bannata. Non prima perché uno ce l'aveva. Qual era questa? Cacchio, sbagliato. Ok, ripartiamo da qui, da questo signore di una certa. Vedete, molti non funzionano. Quindi dobbiamo andare a cercare. Sette. Sette partita o no? No. Cambia la scritta, però, la dicitura. Otto. Qua è molto lunga, quindi cambiano i tipi. Dieci. Ah, il dieci però è quello che ha giocato contro, chiamiamolo, Fakir. Quello primo in classifica, quindi è la stessa partita di prima, praticamente, vista dal suo punto di vista. Della sua Persephone. Peccato che non faccia aprire i personaggi, sarebbe tanta roba. Peccato. Non ho mai provato da qua sotto, se magari li fa aprire. No. Quindi questa già l'abbiamo vista. Anamichi. Quindi siamo arrivati al 10, 11. Di nuovo anamichi. Ok, quindi su due partite Persephone era solo in un team per il momento. Vediamo qua. La nuova skin di... Ofiuko. Persephone in entrambi i team. Lasciamo come velocità a 2, va bene, non di più. Vediamo un pochettino qua. Ofiuko, Ofiuko è un po' che non lo uso e mi dispiace un po'. Un bellissimo personaggio che per il momento non trovo spazi. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è di interessante qua da vedere. Un toro, senza dubbio. Abbiamo da un lato un toro contro Persephone, dall'altro Alon contro Persephone. Quindi tutte e due interessanti. Perché? Di interessante c'è. Persephone. Vedete se la copre perché Persephone è l'unica su cui... Lei non si può mettere lo scudo per bloccare... Per mettere il K ai danni massimi. Quindi lei sarebbe molto danneggiata dal toro, dall'uscita dell'anima. Perché praticamente non avrebbe totalmente difese. Uscendo di contro, l'anima ha un personaggio, anche se ha... Il level cap... Il level cap più di... Il cap dei danni, come vediamo in questo caso, ha Saori. Ma l'anima di Saori non ha la protezione. Vedete? Qua la protezione è su Saori, non sull'anima. Quindi può essere shottata. 35k. Quindi può essere shottata. Toro annulla la protezione... Di Persephone che mette al team. Quindi Toro, ottimo counter. Vediamo se... Si... Si vede chiaramente da questo... Da questa situazione. Mamma mia, questo assorbimento... Questa riduzione vita di Persephone è micidiale. Nel frattempo abbiamo due semi piantati da un lato. Lui giustamente si concentra. Non riesce a ucciderla. Con tutta l'anima uscita non riesce a ucciderla. L'anima è sparita nel frattempo. Una Persephone è lasciata libera di agire. Come nel caso del primo team di My Melody. Lasciata libera e non attaccata. I suoi HP diventano... Arrivato ad un certo punto, secondo me, è molto difficile buttarla giù. Giustamente lui ora se ne va contro Toro. Ormai gli HP di Toro sono... Persi. Diciamo che Toro è un counter. Ma deve agire... Cioè, si deve agire immediatamente. Adesso arriverà la shottata all'occhio di Thanatos su... Su Shion. Vediamo questo blocco, questo cap sui danni. Io ancora non ho visto... Cioè, so che Alon è un counter di Persephone. Lo so perché... Per le meccaniche che so. Ma non l'ho mai visto effettivamente un Alon con pochissimi HP andare a fare lo scambio vita. Proprio vederlo fisicamente. Quindi speriamo che sia la partita giusta finalmente. Il fatto, sapete qual è? Che Alon, anche se gli viene ridotta la vita, viene considerato sempre che è full vita. Perché anche se ha 10 HP, ma ce li ha tutti e 10. Lui ha 10 HP ma... Ma è full vita. Quindi se scambia, lui scambia la percentuale. Capito? Quindi Alon è un counter. Però forse mi sto accorgendo che è un counter sulla carta. Perché Alon quando ha 10 HP, che ha la vita ridotta da Persephone, è difficile che Alon sia... Ha una percentuale di vita bassa. Perché se no è morto. Deve essere shottato. Vedete, non fa neanche più tanto danno. A un certo punto perché non riesce più... Non funziona più lo scambio vita. Qua c'è il funzionamento del cap dei danni. E non si può uccidere direttamente con l'occhio di Thanatos a Shion. Intanto il danno credo sia pure... Ah, vediamo. Poro cerca di uscire l'anima. Non capisco perché non la esca a Persephone a questo punto. Vabbè, Persephone è riuscito a portarla in rosso. Quindi ormai ce l'ha fatta. Ok, mazzate, ce l'ha fatta. Quindi se non c'è molta differenza di account... Quindi comunque ci si può pestare ancora. Ce l'ha fatta. Alon... Forse un po' mi sto ricredendo... A questo punto forse è un po' meno efficace come counter... Rispetto a come immaginassi io all'inizio. Per questo discorso è comunque quando lui ha... La vita massima ridotta... Lui gioca con lo scambio vita... E il re diventa un po' impacciata come cosa. Niente, Persephone si deve bastonare... Alla vecchia maniera. Possibilmente messo sopra un occhio di Thanatos e la puoi shottare. Quindi forse Thanatos è ancora più efficace di Alon. Che bello vedere un Sirio che funziona senza bug. Diciamo che i team bene o male sono classici. Non sono stravolti con la uscita di Persephone. Si è aggiunto Ade nel meta. Grazie a lei con questa combo di ciuccia vita. Si è aggiunto Ade. Torna Hypnos per un altro motivo. Per il suo RC. Però l'uscita di Persephone non stravolge come quando uscì per esempio Artemide che ha stravolto. Ha fatto ritornare un sacco di RPG in meta soltanto per il base. Per essere usato con... Cioè Artemide ha stravolto di più. Artemide appunto per il discorso del base. E perché anche in modalità Hunter riuscivamo a portare dei personaggi... Ai tempi non c'era Doko. Dei personaggi che prima potevamo usare difficilmente con 4 energy perché lei ne toglieva 2. Quindi abbiamo riprovato cose come Doko RC, Iolos RC. Personaggi da 4 energy che grazie al costo ridotto di Artemide in Hunter potevamo riportare. Ecco Artemide ha portato un cambio totale del meta. Mentre Persephone si è semplicemente aggiunta e adagiata. Quindi funziona bene con Ade e ha ripescato Ade un pochino dal cestino della differenziata. Quindi questa è una cosa buona. Persephone fa i bei danni. Quindi qua non siamo più in Sacred, siamo in Galattica. Galattica in leggendario. Quindi Persephone fa i danni. Siamo sui 900k, un milione. Persephone è un DPS di tutto il rispetto. Persephone è un DPS, un ottimo personaggio. Mi sembra di capire quindi che Alone sia più danneggiato Alone da Persephone che Persephone da Alone. Quindi questo è interessante. Lo vedremo negli altri, nelle altre partite. Comunque non volevo fare un video troppo lungo. Volevo portare giusto proprio due partitelle e fare dei video un po' brevi e vedere qualche PvP appunto nei server cinesi. Alla ricerca di personaggi di solito che da noi ancora non ci sono per farci un'idea migliore del loro funzionamento. Niente. Io faccio questo primo video di questo tipo per andare a scauterare, non so come dire, i PvP nei server cinesi. Vedrò un pochino se questo tipo di video vi è piaciuto, è interessante, dai mi piace, dai commenti. Quindi fatemi sapere se questo tipo di video vi piace oppure no, che in caso di questa tipologia ne faremo qualcun'altra. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima.